Ciao a tutti, il gioco che vi presento oggi si chiama Pyrastorm, è un gioco della Big Point, molto divertente, adatto un po' a tutti quanti, soprattutto se vi è piaciuto Seafight E così, dopo esservi registrati basterà cliccare sul pulsante gioca, grande in verde, per iniziare subito la vostra avventura, il gioco si carica in tempi molto brevi Evento in corso, magazzino pieno di cannoni e arpioni, oggi, bene Allora, all'inizio se è la prima volta che vi logate dovrete fare una specie di tutorial che vi insegna le cose base del gioco, pulsanti eccetera eccetera E dopodiché comincerete su questa mappa qua, che si chiama Mare di Brandon, a svolgere le prime missioni del gioco e a salire dei primi livelli Come potete vedere il server italiano è abbastanza pieno di gente, quelli con la scritta gialla sono giocatori e quelli con la scritta bianca sono mostri e NPC comandati dal computer Bene, a me tutte queste scritte danno un po' fastidio, allora basta schiacciare, mi sembra, la N, esattamente, N per... Mio 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 mio! Mio 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 Ecco, basta schiacciare la N per far sparire tutte le scritte Dopodiché gli altri shortcut sono la M per aprire la mappa e la K per far sparire questa odiosa nebbia dai fianchi che sinceramente preferisco non averla Ok, adesso dopo aver fatto il tutorial comincia il gioco vero e proprio e cominciamo per esempio con una missione Basta andare su quest e adesso dobbiamo fare un cacciatore eccellente per esempio Clicchiamo su progressi e questa qua che abbiamo attiva dobbiamo uccidere 5 granchi giganti di cui 2 sono già stati uccisi Andiamo a trovarne sperando che... di trovare anche un posto dove non ci sono tutti questi giocatori E' un po' affollato la mappa quella iniziale del gioco ma dopo andando avanti saranno un po' meno affollate anche se al momento è un gioco veramente tanto giocato Qua in basso intanto c'è la chat dove potete conoscere altri giocatori ecco un granchietto Dove potete conoscere altri giocatori... io ho impostato sull'1 trascinando l'icona qua sugli shortcut L'attacco quindi basta schiacciare 1 e arpiono direttamente il granchietto Che come avete visto lascia cadere 2 casse che bisogna prendere in fretta prima che gli altri ci freghino E in questo caso abbiamo ricevuto dell'oro Ma ci possono essere dentro anche cose migliori tipo i diamanti che sono la cosa più utile del gioco Oppure tante altre cosette sfiziose Uccidiamone ancora 2 Andato siamo a 4 Ogni volta che ucciderete un mostro oppure una nave nemica vi verrà dato una ricompensa Ecco per esempio ha ricevuto 3500 oro e un po' di esperienza che non ho visto quant'era Perché abbiamo completato la quest Difatti se vedete qui è cambiata dalla quest di prima è diventata amore fraterno Non so perché questo nome e bisogna uccidere altri due ratti di mare Troviamo sti due ratti di mare Ricordo la n per vedere i nomi delle unità Ratto di mare Ratto di mare Ratto di mare Vieni a fare la guerra Ratto di mare Vieni a fare la guerra Eccola qua Allora sempre con l'uno si attacca Se vi siete spostati lo sciolta come me o se no basta Vaffanculo me l'ha fregato Troviamone un altro Questo qua Yeah questo è nostro 3 su 4 3 su 4 ancora 1 Ecco qua Questo è già attaccato Proviamo a fregarglielo noi Pam Yeah Conclusa Bene abbiamo completato le nostre quest Dopodiché per esempio adesso abbiamo 50.000 denari Cosa possiamo fare con 50.000 denari come potete vedere in alto a sinistra C'è il mercante Mercante Qua come al solito ci sono cose che puoi acquistare con i diamanti oppure con i soldi normali del gioco Anche i diamanti si possono trovare in giro per le mappe oppure completando missioni Adesso ti farò vedere Ma il modo più facile per ottenerle ovviamente con soldi veri Cosa che io non uso mai Allora per esempio navi Navi Niente servono 150.000 per cambiare la nave Se no cannoni ma mi pare che li ho già tutti al massimo Per questa navetta bisogna aspettare 150.000 per comprare qualcosa di nuovo Va beh Qua su questo non c'è niente di attivo Per andare a trovare qualcosa da attivare basta andare sul porto Che è segnato sulla mappa qui Esattamente dove siamo noi Ed entrarci Una volta entrato nel porto si apre sta cosa qua Sta E nella taverna se non erro Eccole qua Tre missioni pronte pronte Accetta Accetta E accetta Usciamo Qua per uscire dal porto Ci ho messo un po' a trovarlo sto tasto Non so Comunque per uscire dal porto basta cliccare qui dove c'è la mappa adesso E per esempio come missioni adesso Abbiamo Mamma ce n'è una Di mamma ce n'è una sola Senza dubbio Sei guardie di Guglielmo Ah bene Adesso dobbiamo andare a uccidere sei guardie di Guglielmo Eccola Pam Uno sempre Bonus temporaneo Il bonus temporaneo è eliminato Ah quando esci dal porto sei invisibile finché non attacchi qualcuno o qualcosa Comunque uno Dopodiché Vieni qua No non tu Tutte ste casse qua Importante tirarle su Certe mi pare che siano anche un po' più luccicose Danno Danno premi più grossi Vuori 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 Cominciare Andare avanti Le avventure Così Assieme A altra gente Fino al 10 Non ti lasci Entrare in gilda Devi potenziarti da solo Dai Mio 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 E così Però Guardia di Guglielmo Del bigolo Non ne vedo TAM Tata Ancora due E ancora una E l'ultima E la missione completata Che qua ci hanno dato un botto di esperienza Ci manca pochissimo per arrivare al livello 4 Come potete vedere qua E al livello 4 mi sembra Intanto Ah no A livello 4 Dove era qua Qua c'è il profilo del giocatore E qua ti dicono Punteggio per passare il livello Ti aumentano di 1 i danni della nave Di 10 gli hit point Poi ti danno 150 arpioni super cazzuti E Un idrocristallo Che non ricordo più a cosa serve Lo scoprirai da solo E il sigillo Ah dopodiché una cosa carina Che c'è da fare È andare a fare il subacqueo Qui E puoi trovare un casino di cose utile Tipo cliccando immersione Per esempio 150 arpioni d'acciaio Che sono quelli più potenti Cliccando di nuovo Palle di ferro Cliccando di nuovo Arpioni semplici Ci è andata male Eccetera eccetera Qui insomma si possono Si possono tenere un casino di cose potenti Ma solo con i diamanti Ed è un po' dura Sono duri da raccogliere Bisogna darsi da fare Completare missioni Va bene Il gioco più o meno è questo Per giocare basta cliccare sul link Che troverai sotto il video E ti auguro Buon divertimento Alla prossima Ciao 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 Ciao